C'è un cambio, Mimitrov lo schiacciatore bulgaro, anche lui giovanissimo, molto alto che mette 0-6 è pronto ad andare al servizio, è inserito da Manuel Zanini che sta facendo ruotare un po' tutti Mancino, mamma mia, che servizio, che recupero da parte, e che muro da parte di Alletti con il recupero di Giulio Sabi che va a prendere la palla fuori e poi ditto per dritto ma Alletti fa male Ebbè, è stato un bellissimo recupero difensivo e poi Alletti, uno contro uno, non si avvede del muro avversario schiaccia quasi a colpo sicuro lo schiacciatore di Ravenna, invece trova Alletti a opporsi